Sono ben noti e documentati i rapporti di Dürer con i grandi maestri italiani della generazione a lui precedente o a lui contemporanea, intendo dire Giovanni Bellini, Mantegna, Raffaello e Michelangelo. Gli studi hanno anche indagato i rapporti fra Dürer e Leonardo, non riuscendo mai però a stabilire una precisa data di incontro fra i due artisti che probabilmente non si sono incontrati mai. Ciò nonostante Venezia ha giocato un ruolo fondamentale. Sappiamo da fonti documentari che Leonardo soggiornò a Venezia nei primi mesi del 1500. Cinque anni più tardi raggiunse la città di Venezia a Dürer e vi rimase per 15 mesi, un soggiorno molto lungo e importante per la storia dell'arte europea. Molto importante anche per la stessa carriera di Dürer incisore perché in questa occasione verosimilmente copiò, ed erano le uniche incisioni di riproduzione che lui realizzò nella sua straordinaria carriera di incisore, copiò i sei nodi vinciani, cioè sei incisioni realizzate da Leonardo da Vinci fatte realizzare alla fine del 400 a Milano. Possiamo sostenere questa ipotesi per testimonianze documentarie sul Dürer incisore a Venezia e testimonianze collegate alla presenza di una filigrana antica su questi fogli databile al periodo veneziano, un elemento di straordinaria importanza per gli studiosi della grafica. Il primo decennio del 500 a Venezia vuol dire uno dei momenti fondamentali della storia dell'arte e anche uno dei momenti fondamentali della storia dell'editoria e della grafica. È a Venezia che Leonardo soggiorna all'inizio del 1500 e si avvicina ai problemi della stampa che poi lo seguiranno negli ultimi vent'anni della sua carriera fino alla morte nel 1519. È a Venezia nel 1506 che Dürer copia le incisioni di Leonardo praticando un genere ben diffuso nelle botteghe tipografiche veneziane ma che lui non pratica mai, quello dell'incisione di riproduzione. Sempre a Venezia si stampa nel 1509 il Divina Proporzione, un testo fondamentale di Luca Pacioli che contiene molti disegni di poliedri geometrici, in fondo un apparato illustrativo molto ricco basato su disegni come è noto Leonardeschi. Questo trattato era presente nelle biblioteche di Norimberchesi, fornì un consistente abitus teorico al Dürer teorico dell'arte nel terzo decennio del Cinquecento e soprattutto era dedicato a Galeazzo da San Severino, un nobile della corte degli Sforza che soggiornò a Norimberga fra il 1502 e il 1503 portando i disegni dei cavalli di Leonardo che furono tradotti in incisione soprattutto nello splendido piccolo cavallo esposto in questa sala da Dürer e rappresentano il primo momento di vicinanza fra i due artisti prima del grande incontro veneziano.